non puoi scendere perché... scendi... perché ti scendi? scendi... non puoi scendere... vedi che sale il suo sanello, aspetta aspetta... ma lui sai, sale lui... non si è passato... non si è successo... non si è passato... non si è passato... non si è passato... sentite che prendi la cannola vai torchetta dai sali ti piace si andiamo vai vai no la che vengono questo è il più intelligente del mondo si è un bene speciale si è un bene speciale si no aspetta andiamo dai portalo fino al calcello ma chi è? quella è Jenny ma dove è Jenny? si vede solo una coda ma sarà lei? no è lupa se si gira la vedo è lupo o è Jenny? è lupa questo è fatto a me allora lupa aveva partorito in strada era disperata con 5 pigli malata di lesmania bisogna dire che si è ripresa parecchio ma dov'è Tony? si vede solo la coda guarda guarda non ci credo guarda è sparita lupa non è arriva è infatti io pastore lupa non stavi male un tunnel sotterraneo vuole andare via lupa è molto orgogliosa vuole scampare tanto lupa lo senta ma che c'è? la buca non hai patano perché divisa e prende dei mail la buca è di lupa è di lupa brava amore sì che presentiamo Yasmin sarebbe un cane bianco però anche lei l'ha cambiato valore Yasmin ciao Yasmin è innamorata di Tony da sud al primo giorno ora approfittano dei lavori e quindi degli scatti c'è ancora più terra sono molto contenti ma guarda come sono messi sì anche noi vediamo questa roba e per forza lei lo abbraccia papastoni lei lo abbraccia mi sono innamorata guarda 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 guard